Roma e Juventus non sbagliano l'esordio in campionato. Nei due anticipi che hanno aperto la Serie A, i giallorussi battono 2-0 all'Olimpico la Fiorentina, con le firme di Nainggolan e Gervinio, mentre i bianconeri di misura 1-0 al Chievo nel pomeriggio su sfortunata Autorete. Oggi le altre in campo. Si inizia con il Milan alle 18 che ospita la Lazio a San Siro, poi dalle 20.45 Inter e Napoli con avversari tosti, Torino per i nerazzurri di Mazzarri ed il Genoa per gli azzurri di Benitez. Le neopromosse Empoli ed Atalanta se la vedranno con Udinese e Verona. Il quadro è completato da Cesena Parma, Palermo Sampdoria e Sassuolo Cagliari.